ciao a tutti amici del vostro guadagnare online e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi volevo parlarvi di tre applicazioni che vi pagheranno direttamente su paypal parliamo appunto di queste tre che vedete in schermo sono tre applicazioni che vi pagheranno semplicemente giocando se clicchiamo sulla prima potete vedere che si aprirà un caricamento una volta terminato il caricamento ci ritroveremo sulla nostra dashboard principale io vi inserirò i link in descrizione per poterla appunto scaricare e possiamo vedere che l'app una volta inserita email e password e si presenterà in questo modo ci verranno ci verrà data la possibilità di installare delle applicazioni per poi guadagnare delle monete che saranno inserite sulla nostra dashboard principale sul nostro sul nostro saldo principale in alto come vedete io al momento su questa applicazione ho 201 monete e giocando ad esempio a questo gioco delle slot machine spin for cash guadagnerei 57 monete al minuto come si fa scaricare questa applicazione basta cliccare sul gioco e collezione l'applicazione ci invierà questa schermata basterà cliccare successivamente su installa ora e successivamente ci invierà o sul nostro app store o sul nostro play store e successivamente ci basterà installarla una volta installata e ritroveremo la nostra la nostra applicazione sulle nostre app se andiamo a cliccare su queste tre linee in alto alla nostra sinistra possiamo cliccare sulle mie app e ci troveremo le nostre applicazioni appunto scaricate cliccando su una di queste e appunto si aprirà in modo automatico l'applicazione per ogni ogni minuto che noi giocheremo guadagneremo delle monete queste applicazioni successivamente per ogni minuto giocato e il tempo per cui servirà per essere pagati aumenterà aumenteranno anche le monete che ci concederà come potete vedere io ho tre applicazioni installate queste applicazioni installate in precedenza e successivamente le ho disinstallate come vedete le ritrovo sempre sulla schermata alle mie app anche dopo averle disinstallate disinstallate per ristallare basterà semplicemente cliccarci su una di queste ci rimanderà sul play store o app store e ce la farà appunto ristallare e un'altra cosa importante di questa applicazione per guadagnare per guadagnare monete è quella che se noi invitiamo amici guadagneremo il 25 per cento dei dei suoi guadagni dei suoi m coins guadagnati infatti se clicchiamo su la sezione dei dei amici possiamo leggere che riceveremo inizialmente 250 monete solo per averlo invitato in più riceveremo il 25 per cento delle monete collezionate dal tuo amico e in più anche il l'amico che abbiamo invitato guadagnare un 25 per cento delle monete che collezioneremo noi quindi è ottima per tutti e due successivamente il pagamento se andiamo sulla sezione del dollar può essere fatto tramite paypal amazon itunes e zalando io sceglierò zalando come vedete i pagamenti portano da 30 centesimi ad un massimo di 20 euro e per richiedere il pagamento ci basterà appunto arrivare alle 2.999 monete minime per richiedere il pagamento successivamente ci basterà cliccare come vedete le monete sono insufficienti mi viene detto una volta cliccato ci verrà chiesto di farci un selfie e successivamente di inserire la nostra email paypal non sbagliate questo passaggio perché se lo sbagliate e non potrete più modificare la vostra la vostra appunto email di paypal su cui richiedere i pagamenti una volta fatto questo ci basterà ogni volta una volta inserito la nostra email paypal ogni volta raggiunti i m coins minime per richiedere il pagamento ci basterà semplicemente cliccare appunto sul pagamento le altre due applicazioni simili a queste che vi farò semplicemente vedere sono quest'altra una volta cliccata si presenta nello stesso identico modo dobbiamo aspettare il caricamento dobbiamo aspettare semplicemente il caricamento una volta l'applicazione caricata ci ci ritroveremo appunto la dashboard questa che vedremo tra pochi minuti pochi secondi come vedete è molto simile a quella precedente le applicazioni sono sempre le stesse diciamo che a me escono di solito solo applicazioni di slot machine perché perché amo molto giocate appunto questo tipo di gioco e come vedete io in questa piatta o in questa applicazione mi trovo al primo minimo quindi cliccando sul dollaro potrò richiedere il pagamento semplicemente cliccando su paypal e successivamente su appunto 0 30 centesimi di euro 2.999 monete come ci verrà detto riceveremo entro sette giorni feriali il pagamento ma di solito si riceve entro massimo un giorno clicchiamo su ok e come vedete il pagamento in corso le monete sono scalate e il pagamento mi arriverà appunto domani l'ultima applicazione molto simile appunto è quest'altra gridi dragon che appunto è completamente uguale alle altre ora la aprirò soltanto per farvi vedere velocemente che è molto simile le funzioni sono le stesse aspettando sempre il caricamento questa è la dashboard i creatori di queste tre applicazioni sono gli stessi come vedete ci ritroviamo sempre le applicazioni da poter scaricare cliccando sui tre puntini possiamo vedere i nostri amici le nostre app scaricate le nostre app scaricate e successivamente andando sull'immagine del dollaro potremo richiedere il pagamento e su queste tre applicazioni ho ricevuto su tutte e tre dei pagamenti ora ve li farò vedere come potete vedere su su la seguente ho ricevuto 0,50 centesimi su quest'altra ho ricevuto 0,30 centesimi su questa un euro e su quest'altra altri 0,30 centesimi ed ora sto aspettando ancora questi 0,30 che ho appena richiesto detto questo il video è terminato e ti ringrazio per la visualizzazione lascia un mi piace se ti lascia un mi piace e ci vediamo al prossimo video grazie